Se posso aiutarvi, signorina? Grazie mille. Hanno cambiato posta i libri e non trovo più autori francesi. Niente è stato cambiato. Devo dirvi che sono nel mio regno qui. Mi presento, Raoul Vigneur. Ah, il precettore del Principino. Precisamente. Che autore volete, classico, moderno? Contemporaneo, contemporaneo. Volevo l'ultimo libro d'Anna de Noaille.